Eh? Devi farla dai? No, no, mi giocano molti... Ma che finisce, dai, 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 dai... Non mi viene diretta? No, no, non c'è giù, dai, tu povero... No, venga, finisci... No, venga, finisci... Eh, venga, finisci... C'è adesso un minuto... Un minuto? Sessette! Cinquecento nove! Quando mancano le dieci secondi, diccelo, Rocco! Eh, diccelo quando manca dieci secondi, eh, Rocco! Quanto? No, venga, c'è... Fa quante secondi... Quando mancano le dieci secondi, Rocco! Sì, sì, no... Dai! Raga, quando mancano le dieci secondi, tutti... Sì, 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 sì... Eh, ma quello della scuola... Venti, diventi... Ah, ancora è presto, ve lo dico io... Venti, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Venti, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno... e dai e dai e finalmente e finalmente ronconi si liberi oggi fatti di gancio per tutti giusto? no scala scala buongiorno allora voglio dire che bello allora voglio dire una cosa donne donne guardate che fisico voglio dire una cosa non iscrivetevi al suo canale è un amico si però certe volte ti gradisce è un gran coglione un coglione amico beh mi saluto e non riprendermi più è finita è finita la scuola è finita la scuola non 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 è finita la scuola